Sara, fra l'altro sappiamo che stai prendendo lezioni di canto, giusto? Allora devo ancora cominciare, ma no, sono stata coinvolta in una serata di beneficenza, perciò ho detto di sì, capito? Dove c'è campioni canzoni e quindi... Non puoi cantare niente adesso, cioè no. Ma no, guarda, c'ho messo tanto a farmi una reputazione, ma adesso vorrei una sorpresa facciata così. Allora aspettiamo che canti a Sanremo, giusto? Sarei a Sanremo e quindi fra l'altro al Teatro Ariston. No, no, all'Ariston ma non al Festival, è vero che sia chiaro. E' una serata, adesso il 28 di novembre, è per beneficenza, quindi speriamo che vengano più che altro per raccogliere fondi per i bambini oncologici, così. Quindi insomma, ho detto di sì perché era una buona causa. Ma però hai fatto bene a chiarire che è il Festival... No, no, non vorrei che poi dopo capi... No. Sara, tu hai una pietra miliare veramente nello sport, nel salto in alto particolare. E cosa è voluto dire in quel periodo superare la barriera che hai superato tu? Ma erano anni sicuramente particolari dove c'era un grande fermento, più che altro c'era una voglia da parte di tutti di fare un qualcosa di importante, di impegnarsi, perché insomma erano gli anni dove soprattutto anche a livello femminile lo sport oggi è conosciuto perché dà dei bellissimi risultati in ogni campo. Però insomma io sono stata una delle pioniere che facendo risultati, facendo capire che allenandosi, facendo le cose seriamente, anche le donne potevano avere un seguito e insomma diciamo essere alla pari come risultati ed essere seguita è stato importante. In effetti da lì poi è cominciata tutta una serie di iniziative e anche semplicemente studiare il mondo femminile, capire come siamo fatte perché siamo diversi e quindi anche creare una metodologia d'allenamento per la donna. Perché fino a quel momento noi prendevamo l'allenamento maschile e cercavamo di farcelo calzare nel modo migliore, capito? Io sono stata fortunata perché ho fatto, mi sono buttata nel voler provare a fare questo stile Fosbori che è stata una novità dove nessuno sapeva niente e quindi ha rivoluzionato anche l'allenamento. Perché fino a quel momento lì c'era lo stile ventrale, non so, per gli non addetti al lavoro è lo stile che si supera la sticella con il ventre, invece il Fosbori al contrario. E il Fosbori ha bisogno di una velocità diversa e quindi ci ha fatto pensare a quello che poteva essere un nuovo modo per allenarsi, anche per esempio a livello di forza. Sono cambiate tantissime cose e quindi da lì è stata veramente una rivoluzione. Perché diciamo che da quel momento a oggi, soprattutto se si guardano i filmati, adesso, vabbè, quelli che sono stati a vedere qui sono una cosa veloce per motivi tecnici e di spettacolo. Però il gesto tecnico, se si guarda alla televisione, ha una ritmica che è molto diversa da quella di 30 anni fa. No, quindi la velocità di un gesto diventa importante. E da lì sono cambiate tantissime cose, perciò, capito, solo che noi... Era un periodo d'oro dell'atletica italiana, un po' come adesso, diciamo, sì. Sì, è stato un periodo d'oro perché abbiamo fatto i risultati. Però diciamo che abbiamo avuto anche dei dirigenti che sono stati i lungimiranti. Perché, non so, io ricordo quando entravo, per esempio, in federazione, era come entrare a casa. Lo spirito che c'era all'interno della federazione sembrava che tutti proprio si lavorasse per fare in modo che poi l'atleta stesse bene e tranquillo per poter fare i risultati. E tutti volevano crescere, darsi da fare per crescere. Questo è stato, secondo me, la molla importante.